Hola hola! Come decidere l'ordine dei prodotti nella tua routine di skin care? In questo video ti spiego tutto. Subito il video! Benvenuti, bentornati, ben arrivati a tutti voi che mi seguite ogni settimana in questo mio canale di YouTube dove vi parlo di skin care, di cosmetica e benvenuti a tutti quelli che siete nuovi, che per caso siete capitati in questo video dove vi parlo, come dicevo, di cosmetica di skin care. Ma prima, se non mi conoscete, io mi presento. Io sono Luis Campo, sono un medico, sono un chirurgo, mi occupo di medicina e chirurgia estetica. Vivo e visito, che tanti me lo chiedete, qua a Milano, città da dove vi sto parlando. Purtroppo non vado in altre città d'Italia perché non ho più tempo per il momento, vediamo in un futuro. Ogni settimana in questo mio canale di YouTube non faccio medicina, non cucio, non taglio, non faccio punturine, ma vi parlo di skin care, di quello che voi potete fare a casa, come lo faccio io a casa mia, come qualsiasi consumatore di skin care, per migliorare la qualità della vostra pelle, dei vostri capelli, della pelle del viso, della pelle del corpo, soprattutto del viso e quindi ridurre piccole macchie o attenuarle o ridurre i segni dell'imvecchiamento e soprattutto rallentare il processo di imvecchiamento o imvecchiare di una forma più armoniosa, più bella, ok? E ogni settimana vi parlo di tutte queste cose di skin care. Ricordatevi, se vi piace questo contenuto, di questo video, potete fare così, potete fare così se non vi piace e sotto avete il tasto di iscriverti e anche il campanello di modo che ogni giovedì, quando pubblico un video, vi arriva la notifica. Ricordatevi anche, o chi non lo sappia, che mi trovate anche su Instagram e su TikTok. E oggi, iniziando il mese di febbraio, andiamo agli inizi, nel senso, alla base della cosmetica della skin care, perché di questo vi avevo parlato, ma circa due, tre anni fa e non avevo ripreso l'argomento, perché per me è una base, una cosa molto semplice, ma mi rendo conto, quando mi scrivete, quando mi mandate i messaggini, che tante persone ancora non avete chiaro come estratificare o come, in che seguenza, utilizzare i prodotti della routine di skin care, ok? E quello è la base per ottenere i migliori risultati. Oltre a scegliere il prodotto giusto, l'ordine in cui vengono utilizzati i prodotti è fondamentale per poterli fare penetrare nella nostra pelle, perché se mettiamo un prodotto troppo unto, troppo oleoso o troppo compatto all'inizio della routine di skin care, poi i prodotti che metteremo dopo non andranno a penetrare nella pelle. Uguale succede se non facciamo una ottima pulizia, qualsiasi cosa che metteremo sulla nostra pelle non andrà a penetrare tanto bene come dovrebbe e come sarebbe la cosa migliore per ottenere i migliori risultati. Quindi ogni tanto che vi parlo di ingredienti attivi, di tanti prodotti, eccetera, bisogna tornare alle basi di come fare la routine di skin care, ok? Quindi oggi mi sono preso la mia scatoletta prodotti, quello che sto utilizzando adesso, in questo momento, per fare la mia routine di skin care. Sapete che io cambio spesso per provare diversi prodotti e così raccontarveli. Non mi soffermerò in ogni singolo prodotto a spiegarvi cosa contiene, cosa non contiene, perché l'ho scelto, o se mi piace o non mi piace. Quello che voglio illustrarvi in questo video, che voglio che sia abbastanza schematico, è come mettere in sequenza diversi prodotti. Soprattutto adesso, in questi mesi d'inverno, soprattutto febbraio, che sicuramente insieme a gennaio sono i mesi più freddi, la pelle consente stratificare, perché una pelle fa freddo, quindi tolleriamo meglio avere diversi estratti. L'utilizzo dei diversi estratti viene tanto dalla cosmetica coreana, quando erano usciti con questo famoso 11 passi di skin care. Realmente i passi sarebbero facilissimi. Al mattino bisognerebbe detergere, idratare e proteggere. Quindi una detersione, una crema idratante e una protezione solare. Alla sera invece bisognerebbe detergere, idratare e basta. Poi lì possiamo mettere i sieri per farla più completa, possiamo mettere altre cose. Quindi in base alla necessità della nostra pelle andremo a inserire i prodotti. Quindi passi fondamentali, detersione, idratazione e protezione al mattino. Alla sera sarebbe idratazione, scusate, detersione e idratazione. In mezzo possiamo mettere un siero che vada a trattare qualche problematica della pelle, sia acne, sia macchie, eccetera. Ma come si scelgono i prodotti? Non sto adesso a scegliere la rutina. Sennò come si mettono in sequenza. Dal più leggero al più compatto. Quindi una volta che avete fatto la detersione, cominciate dai prodotti che sono di consistenza più leggera fino ad arrivare alla consistenza più compatta. Così siete sicuri che i prodotti andranno a penetrare gli ingredienti attivi di ogni singolo prodotto andrà a penetrare e a fare quello che deve fare. Con la mia scattoletta di quello che sto facendo adesso vi comincio a illustrare. Al mattino con cosa comincio? Al mattino sto cominciando con questo detergente di Toscani. Io comunque vi lascio le fotografie qua e sotto avete il link se volete approfondire su questi prodotti. Quindi al mattino detergo la pelle con un detergente a base acquosa per togliere i resti dei prodotti che ho utilizzato alla sera. Una volta che ho fatto la detersione, cosa applico? Applico in questo momento, sto applicando un'acqua, un tonico. Io non amo chiamarlo tonico, lo chiamo lozione, lo chiamo essenza. Non è altro che acqua con acido ialuronico per idratare ancora di più la pelle. Siccome è acqua, completamente acquoso, lo applico subito dopo la detersione a viso pulito. Non è appiccicoso e quindi mi aiuta a idratare la pelle. Dopo aver applicato l'acqua vado a un prodotto ancora un pochettino più consistente dell'acqua. In questo momento sto mettendo questo acido ialuronico di filorga che è un pochettino più denso dell'acqua. Quindi come vedete in questo caso questo è trasparente e è un pochettino gelatinoso, un pochettino più consistente dell'acqua. Qua mi soffermo un pochettino. Quando mettere l'acido ialuronico? Al mattino, alla sera? In che momento? L'acido ialuronico lo potete mettere in qualsiasi routine di skin care. È un ingrediente neutro, va a idratare, va a omettare la pelle, quindi richiama acqua, di conseguenza la va a idratare e lo potete mettere in qualsiasi momento, al mattino o alla sera. Se il viso io lo applico subito dopo l'acqua, l'acqua idratante, perché ha viso umido, quando ho la superficie del viso che ancora resta un po' di umidità dell'acqua, se applichi l'acido ialuronico, l'acido ialuronico si va a caricare di acqua e di conseguenza idraterà di più la pelle. In questo momento sto facendo questa routine molto idratante perché il freddo, soprattutto qua a Milano, che in questi giorni è stato veramente pungente, quando esci al mattino da casa, che c'è il riscaldamento, che stai bene ed esci per andare al lavoro, senti veramente il freddo, quindi ho la sensazione di avere bisogno di una routine più idratante al mattino, soprattutto perché alla sera, come vedrete, adesso sto caricando un pochettino i nacidi, visto che non c'è tanto sole, per rimuovere imperfezioni, rimuovere macchie ed essere un pochettino più aggressivo. Dopo questo, dell'acido ialuronico, va da un prodotto ancora un pochettino più denso, quindi se questo era, come vi ho fatto vedere, un po' gelatinoso, adesso sto utilizzando questo siero di vitamina C. In questo caso, questo siero di vitamina C, che mi resta pochissimo, penso di averlo praticamente finito, o che questo vedete che è un pochettino più compatto, nel senso che questo sarebbe già come una cremina, una cremina siero, per quello che lo applico dopo il siero di acido ialuronico. Questo realmente si potrebbe fare, prima il siero di acido ialuronico, e poi la vitamina C, o si potrebbe fare incluso al contrario. La cosa ideale è farlo così, prima questo e dopo questo, perché questo è più leggero e questo un pochettino più denso. Ma sappiate che se il tuo obiettivo è idratare la pelle, questo va per primo. Se il tuo obiettivo invece è dare luminosità all'incarnato, rimuovere macchie e uniformare l'incarnato, la vitamina C va per primo. Perché? Perché hai appena pulito la pelle, dopo la idratata sì con l'acqua o con uno spray, e poi subito metti la vitamina C, di modo che l'ingrediente attivo della vitamina C sia il primo che va ad entrare in contatto con la nostra pelle e di conseguenza con le nostre cellule. Dopo il siero della vitamina C, al mattino sto applicando il mio contorno occhi. In questo caso un contorno occhi, un pochettino colorato, non è che abbia colore, sennò che ha delle particelle che riflettono la luce ed in conseguenza l'occhiaia si vede un pochettino di meno, oltre a contenere altre cose. Perché metto il contorno occhi qua? Perché ho applicato tutti i miei sieri e poi applico il contorno occhi. C'è un'altra teoria. Dopo la detersione si mette subito, si può mettere sì l'acqua e poi subito il contorno occhi, soprattutto nelle persone che soffrono di irritazione del contorno occhi, di contorno occhi delicato, prima, subito dopo la detersione, mettono il contorno occhi, di modo che il contorno occhi che applicano va a proteggere la pelle di fronte agli altri sieri, di modo che tu proteggi la tua pelle sensibile del contorno occhi e poi nel resto del viso ti puoi applicare altri sieri che possono essere incluso più aggressivi. E non hai il problema, non hai il pericolo che quel siero che stai applicando sul viso vada a toccare il contorno occhi e ti possa irritare il contorno occhi. Quindi se il tuo contorno occhi è sottile e sensibile, applica prima la crema contorno occhi e poi continui con tutto il resto del viso. Io dopo il contorno occhi sto applicando una crema idratante. In questo caso, in questo momento, sto utilizzando questa di Cecilia, ok, che è abbastanza buona, abbastanza idratante. La applico su tutto il viso, ok? E quindi vado, come vedete, vado di questo siero di vitamina C che era un pochettino siero crema, un pochettino cremosino ma molto leggero, a una crema più compatta. Quindi del prodotto più leggero al prodotto più compatto, più denso. E poi come sto finendo? Guardate, nei giorni che sono qua a Milano, che c'è poco sole, eccetera, adesso d'inverno, utilizzo una protezione solare 30, quindi sto utilizzando questa che realmente questo prodotto di Api Vita ha un pochettino di colore, quindi sarebbe una crema idratante con colore e con protezione solare. Io, siccome non mi piace ungermi il viso tanto con una crema colorata, preferisco mettermi prima la mia cremina idratante, ok? E poi una quantità prudente, una quantità giusta di questa crema che contiene un pochettino di protezione solare che per questi giorni a Milano un 30 va benissimo e poi ha un pochettino di colore che mi aiuta a uniformare l'incarnato e mi dà un pochettino di luminosità, soprattutto poi per stare in studio, a lavorare, mi vedo meglio. Se il fine settimana vado in montagna o vado al mare o c'è una giornata che c'è più sole e sto più tempo fuori, forse invece di mettere questa o se non voglio il colore sto mettendo questa l'antelios uvimune della Rospossè che è molto fluido, molto leggero. Questo sicuramente è più fluido della crema idratante. E direte, perché metti prima la crema idratante e poi la protezione solare intanto perché di solito si fa così potrei mettere anche prima questa non c'è nessun problema se voi utilizzate una crema idratante che abbia colore o utilizzate una crema idratante che vi serva già come fondotinta quello che dovete fare è mettere prima la protezione solare e poi la vostra crema idratante con colore. Intanto queste protezioni solare sono fattori di protezione con ingredienti aspettati con filtri chimici quindi vanno a penetrare e non c'è problema se sopra mettete un altro prodotto quindi questa si potrebbe mettere per prima e poi la crema idratante senza nessun problema e la protezione solare sarebbe la stessa. Se invece preferite prima la crema idratante poi mettete questa io metto prima la crema idratante perché di solito la routine è così la protezione solare alla fine e perché quello che sto cercando adesso è di idratare di più quindi preferisco passare dal siro alla crema idratante e poi lo estratto di protezione solare. Va bene? Alla sera cosa faccio? Alla sera comincio con una doppia detersione quindi la doppia detersione sapete che il primo detergente deve essere un detergente a base oleosa che vada a rimuovere la protezione solare che vada a rimuovere inquinamento microparticelle eccetera che si accumula sulla nostra pelle quindi sto facendo un olio detergente e subito dopo l'olio detergente utilizzo il detergente a base di acqua che sto utilizzando al mattino quindi prima uno dopo l'altro. Una volta che il mio viso è pulito e asciuto ci sono delle sere che utilizzo il retinolo e quindi in questo caso vi avevo parlato in un altro video sto utilizzando il retinker che contiene il retinolo in questo caso acido retinoico è più forte con l'acido glicolico quindi nello stesso prodotto ho acido glicolico che mi va a sfogliare con il retinolo o retinoico che mi va a stimolare il collagene e anche a sfogliare quindi questo lo sto utilizzando tre volte alla settimana perché la mia pelle lo tolera abbastanza bene potrei incluso aumentarlo a quattro volte alla settimana il giorno che utilizzo questo faccio detersione e poi metto il gel che è questo un gel a base di retinolo non faccio altro perché? perché teoricamente questo prodotto contiene alcol polivinilico che crea un estratto sulla pelle che evita che la pelle si vada a disidratare quindi crea un estratto come se fosse di silicone permettetemi il termine come se fosse un film per evitare che la pelle si vada a disidratare sì che si può sentire la pelle un pochettino tirante ma se al mattino l'hai idratata bene alla sera puoi utilizzare questo senza bisogno di mettere una idratante se uno vuole idratare un pochettino prima di mettere questo quello che potrebbe fare è mettere l'acqua il siero di acido ialuronico una volta che si sia asciugato il viso applico questo di modo che io la idratazione la metto prima e poi mi applico questo e vado a dormire ok? se la pelle è sufficientemente idratata di questo non ci sarebbe bisogno e vado direttamente applicare il siero all'acido retinoico e me ne vado a dormire ok? e quindi quello sarebbe una delle sere come lo sto facendo le altre sere cosa faccio? le altre sere faccio un'esfoliazione ma in questo caso sto utilizzando uno esfoliante leggero perché? perché il giorno che io utilizzo il retinker sto utilizzando acido retinoico con acido glicolico quindi l'acido glicolico mi sta già facendo un'esfoliazione quindi non avrei bisogno di sovrasfoliare la pelle o irritare tanto la pelle quindi la sera che non utilizzo il retinker mi faccio la mia doppia detersione quindi l'olio e poi il detergente a base acquoso sempre l'oleoso per prima va bene e poi l'acquoso in questo caso dopo mi faccio un peeling con un dischetto di cottone sto utilizzando questo prodotto che è un liquido è un siero liquido una lozione a base di acido mandelico e acido azelaico l'acido mandelico va molto bene per le macchie l'acido azelaico va molto bene per le imperfezioni va molto bene per la rosaccia va molto bene per le cicatrici d'acne va molto bene per il rossore del lasciato dell'acne va molto bene per le pelli impure ma lo tollerano anche le pelli sensibili quindi diciamo che è trasversale a tutti i tipi di pelle e non crea irritazione quindi visto che l'acido glicolico lo sto utilizzando le sere che utilizzo il retinker il resto dei giorni utilizzo questo quindi dischetto di cottone e lo applico su tutto il viso quindi detersione e la parte sfogliante o la parte peeling la faccio subito dopo la detersione con questo prodotto che come vi dico è liquido siccome questo è liquido passiamo al secondo step e utilizzo un siero che è un pochettino più denso del liquido in questo caso sto utilizzando il night reverse di Toscani che vedete non so se lo riuscite a vedere ma è molto liquido ma un pochettino più forse lo vedete non so se lo riuscite a vedere ma comunque è un siero un pochettino più denso ok potrei mettere l'acido glicolico come ho messo al mattino sì lo potrei mettere ma con questo sento la pelle sufficientemente idratata e sufficientemente nutrita dopodiché questo alternando nel senso e vi spiego perché giusto per la per la spiegazione dal prodotto più leggero al prodotto più compatto qua penserete ah ma adesso metti il contorno occhi no non metto il contorno occhi adesso metto la crema idratante perché sto utilizzando sempre questa di Cecilia che vi avevo detto che è una crema idratante molto leggera molto cremosa molto avvolgente e dopo la crema idratante mi sto applicando il contorno occhi perché lo inverto perché il contorno occhi che sto utilizzando ora adesso che è questo di Cecilia è un contorno occhi compatto è un olio compatto che lo prendo con il dito lo riscaldo tra le dita e mi lascia un come se fosse un estratto oleoso come se fosse una maschera a occhi che mi dura tutta la notte quindi preferisco applicare questo per ultimo si può applicare prima sì che si può applicare prima poi nel resto del viso ti applichi la tua crema idratante è la stessa cosa mi dimenticavo quando utilizzo il retinker il retinker lo porto qua fino alle zampe di galina ma non vicino all'occhio quindi vicino all'occhio metto un pochettino di questo contorno occhi e questo contorno occhi e in questo caso me lo applico prima quindi faccio la detersione mi applico il contorno occhi nella parte della palpera inferiore di modo che così sono sicuro che il retinker non mi va a toccare la parte della palpera inferiore che me la potrebbe irritare mentre che nelle zampe di galina sì che vado con il retinker ok e poi per finire avevo detto che utilizzavo la crema idratante di Cecilia e il contorno occhi di Cecilia ma siccome voglio e ve lo stavo dicendo che in questo periodo voglio ultra idratare la pelle cosa faccio una volta che ho messo la crema idratante voglio creare un film di protezione per evitare che l'acqua della mia pelle si vada a evaporare quindi una ultra idratazione a quel punto sto utilizzando questo olio di apivita che come vedete anche questo è un olio compatto ve lo faccio ve lo faccio vedere è un olio compatto come quello per gli occhi prendo una piccola quantità la riscaldo forte forte tra le mani e una volta riscaldata tra le mani e l'olio si va a ammorbidire lo applico sul viso tamponando senza sfregare in tutta la parte che ho applicato la crema idratante di modo che dopo la crema idratante sto creando un film di protezione per mantenere l'idratazione dell'idratazione del mio viso e come vedete questa è la routine sembra complessa ma davvero che non è per niente complesso quello che dovete capire è che al mattino bisogna detergere idratare e proteggere alla sera bisogna detergere trattare e idratare ok poi lo potete complicare con diverse cose ma la cosa più importante sono quei tre passi come vi ho detto e poi scegliere i prodotti dal più leggero al più compatto solamente si salta la regola con il discorso degli occhi che forse mettete prima il contorno occhi per proteggere la zona del contorno occhi se è sensibile e poi continuare con il resto dei passaggi sul viso immaginate che sul viso state utilizzando una vitamina C potente o un acido esfoliante potente e che non volete che vada nella zona del contorno occhi va bene prima vi mettete la crema del contorno occhi di modo che va a proteggere un estratto di protezione e sopra vi mettete non sopra nel resto del viso vi mettete l'altro prodotto più acido o più irritante di modo che non andrà a affettare a toccare la zona del contorno occhi della palpera inferiore così siete completamente sicuri va bene e spero di aver fatto chiarezza è una delle basi della cosmetica questa saper mettere i prodotti in ordine oltre a sapere scegliere i prodotti che è quello più complesso ma questa è la base della cosmetica della skin care della routine di skin care saper mettere in ordine i prodotti per utilizzare al meglio sfruttare al meglio gli ingredienti attivi e per ottenere i migliori risultati e non buttare via i soldi perché se poi mettete come vi dicevo un prodotto denso all'inizio e poi un prodotto leggero forse non si assorbe e state buttando via i soldi ok come dicevo spero di essere stato utile perché quello cerco con i miei video di questo mio canale di youtube se vi è piaciuto il video vi ricordo fate così se non vi è piaciuto fate così iscrivetevi iscrivetevi al canale fate clic al campanello sapete che qua sotto potete scrivere nel box mi potete scrivere le domande eccetera faccio fatica a rispondere le domande da youtube perché non è agevole dal cellularino mentre che se mi seguite su instagram lì mi mandate le domande e di solito riesco a rispondere a quasi tutte o tutte a quelle lunghe 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 che sembrano una bibbia che mi scrivete tutta la vostra routine di skin care scusatemi ma non posso strutturare se non vi visito prima ma va bene io cerco di fare il meglio ed essere carino simpatico con tutti e come vi dico seguitemi su instagram e anche su tiktok e ci vediamo settimana prossima di nuovo qua in questo mio canale giovedì prossimo con un nuovo video parlando di skin care di routine e di tutte le vostre domande vi aspetto vi ringrazio per seguirmi per seguirmi e ci vediamo la prossima settimana ciao ciao ciao